3. 3. 3. 6. 6. 2. 9. 8. 8. 5. 10. Cambio guardia di nuovo, Huraken, e adesso abbiamo colpito Di Seiken, le due nocchie Adesso usiamo le due nocche al rovescio, huracan in questo modo, quindi da qui frustiamo con l'huracan l'altezza del naso e richiamo i quadri, bene, l'anca parte, subisco e richiamo, quattro lenti Huracan, sayo, ucch, da qui, guardo di lato, muovo l'anca all'esterno, colpisco la latenza della tempia e torna bene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 8, 4, 5, 6, 8, 5, 6, 8, 6, 8, 7, 8, 8, 9, 10